Riaprire in tempi brevi il reparto di geriatria dell'ospedale di Penne, chiuso dal 2020, marzo 2020, a causa del Covid, perché si erano riscontrati alcuni casi di positività sia tra i pazienti che tra il personale. Con Diego Martelli alla telecamera siamo venuti proprio sul posto qui all'ospedale San Massimo per sapere un po' e per raccogliere un appello importante. Abbiamo vicino a noi Gabriele Pasqualone che è il segretario regionale FIALS e poi per l'amministrazione comuna il vice sindaco Tulli, Pina Tulli. Parto con Gabriele, allora intanto è un presidio molto importante questo reparto per Penne ma non solo per Penne, anche per l'area Vestina. Sì, è essenziale per tutta l'area Vestina, ci sono quasi più di 40.000 abitanti, è un punto di riferimento per l'area Vestina, per chi sente male. Non parliamo d'estate, l'estate c'è il turismo, c'è il famoso ritorno anche delle persone che sono andate a lavorare fuori, torno con le proprie famiglie. Avere un pronto soccorso funzionante qui a Penne è essenziale, ma per esserci un pronto soccorso funzionante ci devono essere anche i posti letti, altrimenti parliamo del nulla. Quanti posti letto in geriatria c'erano? Circa 24 posti letti. E quindi 4 posti letti, Penne e anche una valvola di sfogo di Pescara, perché tu in questo momento che ci sono sopra le carrozzelle e barelle a Pescara dei pazienti che stanno aspettando un posto letto, prenderli immediatamente e portarli a Penne sarebbe già cominci tu ad alleggerire la pressione su Pescara. So benissimo che ci sono dei problemi sul personale. Signori miei, questo lavoro è quasi una missione. Non si può dire a Penne non ci voglio andare, non ci vado o mi metto in malattia per non andare. Io spero che non succeda questo, altrimenti l'amministrazione e anche la regione deve prendere assolutamente dei provvedimenti. Vice sindaco Tulli, lei ha partecipato a questa riunione qualche giorno fa con il direttore generale della ASA di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Che cosa vi siete detti? Che cosa è emerso? Il dottor Ciamponi è stato come al solito molto disponibile all'ascolto. E speriamo che le nostre richieste vengano accolte, perché appunto il fatto che ci sia mancanza di personale, sono d'accordo, c'è questo problema. Però anche la burocrazia è molto lunga, molto intrecciata e vedo che i tempi veramente sono biblici. Quindi parliamo adesso di riapertura del reparto, ma deve essere una cosa che venga presa in seria considerazione. Ecco, di tempi si è parlato? No, di tempi appunto, non si è parlato di tempi e quindi non vorrei, perché ogni volta che poi facciamo questi colloqui, queste cose, da parte mia non c'è nessuna intenzione di avere una visibilità politica o dire, non so, perché da noi le votazioni non si devono fare, da noi si deve pensare solo all'interesse dei cittadini. In ultima analisi, Pasqualone, che cosa sperate, almeno per l'anno nuovo? È indispensabile attivarsi immediatamente per le riaperture del presidio, ma soprattutto per attivare i pronti soccorso di penne e di popoli, che un paziente che va lì deve fare tutte le stesse cose che fa Pescara, altrimenti non ne usciamo fuori, possiamo fare nate e quattro pronti soccorsi. Signori miei, Pescara e Montesilvano sono dati, sono 200.000 abitanti, non consideriamo Francavilles, Sindorno, Spoltore, tutta l'area metropolitana, quindi ci vogliono più pronto soccorso per alleggerire quello di Pescara, altrimenti non si va da nessuna parte, siamo concreti per qualche volta.